Lo scorso anno la sufficienza era stentata. In questo 2015 il voto è sceso a 5. La pagella degli artigiani trevigiani al governo Renzi è negativa. Come uno studente che si applica solo nelle materie che preferisce, si passa dal 7 in tema lavoro al 3 in materia fiscale. Abbiamo un problema sulla fiscalità, non viene ridotta perché non vengono tagliate le spese della gestione dello Stato. Questo è un grosso problema. Abbiamo un voto sufficiente invece sulla materia lavoro. Abbiamo avuto con la riforma del lavoro, diciamo, ottenuto importanti soluzioni che fanno sì che le nostre imprese hanno assunto di più che nel passato. Governo salvato sulla fiducia un anno fa, ma a distanza di 12 mesi è finita anche la pazienza. Non riscuoto entusiasmo, ma noi abbiamo cercato di dire perché e dove. Complessivamente il voto è insufficiente perché è peggiorata per noi tutta l'area della semplificazione della normativa sulla sicurezza e sui rifiuti. Per esempio il Sistri si sta pagando una cosa a fronte di zero servizi, questo è un fatto grave. Quindi c'è un arretramento su questi aspetti, burocrazia, gestione dei rifiuti, assieme al fisco. E questo peggioramento ha comportato una complessiva insufficienza al governo Renzi. Siamo in un momento importante, siamo sul filo del rasoio. Abbiamo molti settori, molti dati complessivi che sono in miglioramento. Si potrebbe decollare, però se certe riforme non vanno fatte si potrebbe implodere. Grazie a tutti.